Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg di TV City in apertura la cronaca paura ieri mia Monsignor Felice Romano quando alcuni malviventi hanno fatto irruzione nel supermercato armati di pistola portato via l'incasso proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del raid. Restiamo a Torre del Greco, acceso l'impianto di pubblica illuminazione della bretella di collegamento tra via Alcide dei Gasperi e via Lava Troia, l'annuncio del sindaco Palumba in un video su Facebook. Poi l'emergenza sanitaria, record di Green Pass scaricati nella giornata di ieri, migliorano i dati sui contagi sia a livello regionale che a livello locale. Ci occupiamo nuovamente della situazione rifiuti a Torre del Greco, chiuso da ormai 15 giorni il centro per il deposito degli ingombranti della Santissima Trinità, multe salate per la Butol. In chiusura la scuola riapre finalmente il Museo del Corallo a Torre del Greco. Ne abbiamo parlato con la neodirigente dell'Istituto degni, questo ed altro. Guardiamo i servizi. Hanno fatto irruzione nel supermercato puntando una pistola sui dipendenti. Attimi di paura ieri nella tarda mattinata inviamo un signor felice romano a Torre del Greco. Il fatto è accaduto intorno alle 13. I ladri si sono immediatamente diretti alle casse per farsi consegnare l'incasso e poi direguati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ad avviare le indagini per ricostruire la dinamica del raid. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine ad agire sarebbero stati due uomini a volto coperto con abiti scuri e armati di pistola e l'incasso prelevato pari a circa 1000 euro. Fortunatamente al momento dell'irruzione all'interno del supermercato c'erano solo pochi clienti. Proseguono dunque le indagini per risalire agli autori del raid. Le forze dell'ordine hanno ascoltato la testimonianza dei dipendenti e clienti presenti al momento della rapina e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato che potrebbero essere utili ad incastrare i malviventi. Ieri sera abbiamo dato luce ad un tratto di strada della nostra città. In particolar modo l'illuminazione della bretella di collegamento di via Cire di Casperi. Il tunnel con la strada che poi arriva alla chiesa del preziosissimo San. In un video sulla sua pagina Facebook il sindaco di Tore del Greco Giovanni Palumba informa i cittadini e si rivolge in particolare ai residenti della zona che da tempo avevano chiesto al comune di provvedere all'illuminazione della bretella di collegamento tra via Alcide dei Gasperi e via Lavatroia. Era quella una strada dove non c'era luce. Dai tempi dei lavori che furono fatti alla ferrovia di Stato non è mai stata data l'illuminazione. Da ieri sera c'è illuminazione quindi c'è luce e vita in quella zona. Un intervento necessario anche per evitare gli sversamenti abusivi nella zona. Io ringrazio i tecnici del comune, ringrazio tutti i cittadini di quella zona che da tempo mi avevano chiesto sindaco proviamo ad illuminare anche per evitare quello che è un po' il lasciare il rifiuto ingombrante sotto al tunnel su quella strada. È una strada di collegamento importantissima. Ripeto ringrazio i tecnici e ringrazio i cittadini per aver segnalato e quindi siamo riusciti a dare quello che si chiedeva che poi era una richiesta, era da parte del comune un dovere e da parte dei cittadini avere questa possibilità di questa strada illuminata. Un record finora mai raggiunto secondo i dati del portale ufficiale del governo. Sono stati, lo riporta Lanza, 1.049.384 i Green Pass scaricati ieri dagli italiani. 914.000 sono stati scaricati dopo i tamponi fatti mentre 130.000 in seguito a vaccinazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri per la prima volta le terze dosi, 49.660, sono state più delle prime vaccinazioni che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinati ieri sono stati 89.078. Nella regione Campania l'ultimo bollettino parla di 158 positivi nella giornata di ieri a fronte di 10.287 test effettuati, 6 decessi nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli di terapia intensiva occupati 17. I posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli di decenza occupati 185. A Torre del Greco intanto continuano ad aumentare le guarigioni, 20 quelle registrate ieri, certificati anche 8 nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 562esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale di isolamento domiciliare 80, totale guariti dal Covid 6.775, totale decessi 176. Una multa da 500 euro ogni giorno alla Butol per la chiusura del centro per il deposito degli ingombranti della Santissima Trinità. Pugno duro dell'amministrazione comunale contro la ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Torre del Greco. Una linea d'azione che dovrebbe portare alla riapertura quanto prima del punto mobile, che invece risulta chiuso da circa 15 giorni. Una chiusura che inevitabilmente arrecca disagi e disservizi. Regolarmente aperta invece l'area individuata dall'amministrazione comunale a Viale Sardegna. Non mancano tuttavia i soliti disagi in città, soprattutto in alcune zone dove la raccolta procede a singhiozzo, con cumuli non correttamente differenziati e non mancano gli sversamenti abusivi. Prorogati intanto sino alla giornata di venerdì 22 ottobre i termini di scadenza per la presentazione agli uffici dell'ente delle richieste di riduzione dell'Atari. Ciò in considerazione del fatto che alla data del 15 ottobre, ultimo termine utile per la presentazione delle stesse, molti cittadini torresi erano ancora in attesa del modello ISEE. Un patrimonio unico, sia per la varietà delle opere custodite di inestimabile valore, sia per lo stretto legame che conserva con la scuola e i suoi laboratori e con il territorio. Un vero e proprio scrigno da custodire e far conoscere. Cammei, gioielli e opere in corallo, che testimoniano la cultura e la creatività del popolo torrese e rappresentano un'eccellenza della produzione artistica e artigianale, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Riapre al pubblico, dopo una lunga pausa legata all'emergenza sanitaria, il Museo del Corallo, nella sede storica dell'Istituto Degni a Piazza Luigi Palomba. Un primo segnale di ripartenza, sottolinea ai microfoni di TV City, la nuova dirigente Benedetta Rostan. Abbiamo iniziato con l'apertura del nostro museo come primo segnale di ripartenza. Abbiamo avuto già diversi incontri, diverse prenotazioni. Abbiamo pensato di stabilire una mail che sia dedicata in modo da poter organizzare tutte le visite nella massima sicurezza. L'accesso sarà fatto in sicurezza seguendo tutte le disposizioni dei nuovi protocolli sanitari, ma sempre con gli studenti della scuola, guide. Sì, gli studenti sono pronti, gli insegnanti anche. C'è grande partecipazione. Io sono molto molto contenta. Quando sono arrivata in questa scuola, tutti mi hanno riservato un'accoglienza calorosa, racconta nel corso dell'intervista. E ho sentito sin da subito il grande senso di appartenenza del corpo docente. È quello che in realtà poi ho colto immediatamente arrivando in questa scuola, cioè la partecipazione, l'affetto, l'accoglienza. Il senso di appartenenza fortissimo che hanno tutti i docenti di tutti e quattro gli indirizzi. Ci siamo più volte confrontati sia un collegio dei docenti che per singoli gruppi, meno numerosi. Abbiamo pensato di realizzare un percorso di offerta formativa che sia unico e che permetta ai quattro indirizzi di interfacciarsi in modo che il territorio possa comprendere realmente ciò che i ragazzi realizzano attraverso i percorsi di alternanza, ma anche attraverso i vari progetti e le iniziative, le unità didattiche che i docenti stanno già attivando nelle loro giornate didattiche. Mi sono emozionata perché ho fatto un giro uno di questi giorni quando ero un po' più libera e mi è venuta in mente una canzone di Bennato nella quale c'è questa frase, dice come una perla nascosta in fondo al mare. Dopo due anni di Covid noi adesso abbiamo ripreso questa perla che si era un pochino riparata. Ecco, come sta andando questa riapertura in presenza? Allora, l'apertura in presenza sta andando bene. I ragazzi all'inizio erano un po' spaisati e per questo abbiamo anche pensato di accompagnarli da un punto di vista proprio di accompagnamento emotivo. A breve ci sarà anche uno sportello d'ascolto e stiamo attivando delle iniziative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo con iniziative didattiche, percorsi di unità didattiche che tutti i consigli di classe dovranno applicare, quindi tutti i docenti, ma inviteremo anche delle personalità esterne che possono dare delle indicazioni dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista del comportamento e dell'accettazione dell'altro. Sulla riapertura in presenza, la dirigente ha evidenziato le difficoltà iniziali vissute dagli studenti dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. L'obiettivo da raggiungere, ha concluso, è riuscire nuovamente a relazionarsi guardandosi negli occhi senza paura. Dopo due anni di chiusura e di utilizzo del digitale diventa più complicato, soprattutto per i nostri ragazzi, ricominciare a relazionarsi guardandosi negli occhi senza avere paura e noi dobbiamo accompagnarli superando questa paura della relazione vera. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti i nostri ragazzi.